La storia del genere umano è fondamentalmente una lunga sequela di guerre, intervallata da brevi pause di pace. Perché? Perché la storia del genere umano è dominata dall'io, dalla dualità io-tu, che accompagna l'uomo fino a quando questi cessa di essere uomo. La storia del genere umano è la storia del genere umano. La storia del genere umano è la storia del genere umano. La storia del genere umano è la storia del genere umano. La storia del genere umano è la storia del genere umano. La storia del genere umano è la storia del genere umano. La storia del genere umano è la storia del genere umano. La storia del genere umano è la storia del genere umano. La storia del genere umano è la storia del genere umano. La storia del genere umano è la storia del genere umano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.